Non sto in gente. Grande complimenti a tutti. Alla fine non è un evento per il calcio, ma per il sport. Sport è la cosa abiturale che di più possiamo educare ai nostri figli. La forza che è allo sport non ce l'ha un'altra cosa. Ci hai detto prima che nel calcio italiano non mancano talenti, che è solo questione di tempo e che stanno venendo fuori. Allora ti chiedo qual è il maggior talento che in questo momento ti ispira del calcio italiano? No, non è questo del singolo di una persona. Io sempre ritengo che paese come l'Italia, come la Spagna, come la Germania, come il Brasile, talenti sempre c'è. Giocatori bravi, giovani, sempre ci sono, sempre, come l'elettore. Tu pensi che loro, molti di loro forse non lo sanno, siamo vice campioni d'Europa nell'Under 19, terzi nell'Under 20. Cosa significa questo? Tanti ce ne sono. Tempa, in Italia un piccolo Guardiola può essere De Zerbi? Arrigolo mi hanno parlato molto, molto, molto bene di lui, delle sue squadre. Io credo, io sono con questo con Arrigolo condiviso. Giudichiamo i risultati, ma dobbiamo vedere che è sicuro che ci sono allenatori bravi, giovani. Oggi la gente è molto preparata, credo di più della nostra generazione, molto, molto preparata. Ogni volta è più difficile trovare l'avversario perché sono un gruppo di lavoro molto, molto buono. A parte Cristiano Ronaldo, qual è il giocatore della Serie A che ti piace di più? Ci sono tanti, ci sono tanti. Chef, la domanda su Mazzoni. Ci sono tanti. A me piace vedere la squadra che è come tutto, ognuno fa o vede quello che mi piace. Ci sono squadra di giocatori che mi piacciono vedere, la guarda che no. C'è sto un'altra roba. Il giocatore della Serie A senza dubbio. Ministro, se aspettava che Sarri riuscisse a rimporre le fedele così in fretta anche in l'interno? Guarderai il derby e ti chiedo come vedresti i modi c'è lì? Ma questo come si fa? Fatta calcio? No, quando hai l'esperto di imparare il giocatore al prossimo. Mi hanno parlato molto. C'è un preparatore allettico in la mia squadra di Manchester City che ha lavorato con lui in Pisa forse? E mi parla benissimo. Quindi con questo io ritengo questo. Mi fido di più. Mi spiace per voi. I giocatori che hanno stato con il redatore, che è la vostra opinione. Mi spiace. Guardiola, possiamo avere un quote su Henry come nuovo manager? Sono molto felice per lui. 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 E' stato il mio nuovo giocatore. E quest'ultimo ho sentito un messaggio. E spero che possa fare un buon lavoro in Monaco. E' stato molto felice. E' stato molto felice. Cianciolotti siete il maestre del calcio. Motore di cos'era? Ecco. E' stato forte in tutto il mio spiace al rigo. E' stato molto felice. ahhh